Obiettivo Lunarossa raggiunto Ma cresciamo verticinosamente Ora non ci resta che l'universo Alla ricerca di nuovi mondi, alla ricerca della galassia azzurra Attraversati dalla luce nera generata dai neutralini La materia cosmica che tiene insieme i corpi celesti Disturbati dal vento cosmico che produce Non ci lasciamo dirottare Non ci lasciamo intimorire Prodigiosamente resistiamo Il nostro compito è recuperare il cristallo blu Tesoro scelato nel tempio di Trantor La pietra filosofale della generazione del terzo millennio Da cui scaturisce l'energia necessaria per la sopravvivenza della nostra specie Il nostro compito è recuperare il cristallo blu Tesoro scelato nel tempio di Trantor La pietra filosofale della generazione del terzo millennio Da cui scaturisce l'energia necessaria per la sopravvivenza della nostra specie La nostra specie OTTI Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.